Dopo un lungo braccio di ferro, Andrea Boldi molla tutto, sia la carica di presidente di Arezzo Fiere, sia ogni carica che copriva all'interno di Confartigianato, con due distinte note quanto succinte, così annuncia le proprie dimissioni. In data odierna ho rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente di Arezzo Fiere congressi al termine di cinque anni non privi di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni. Il centro affari ha fermato il proprio potenziale di crescita in termini fieristici, congressuali e concursuali ma il lavoro è da fare ancora lungo e impegnativo e richiederà unità di visione dei soci e professionalità in grado di concretizzare le future strategie. Vi sono certo solide basi su cui fondare con impegno una nuova stagione di sviluppo e crescita. Ringrazio gli enti, in particolare la regione toscana, tutte le forze economiche e sociali che mi hanno consentito di lavorare proficuamente, gli aretini che hanno sempre più apprezzato e valorizzato il nostro centro fiere e gli orafi che con il loro supporto fin da subito hanno dato senso e sostanza a ciò è stato fatto. A tutti loro, ai collaboratori e colleghi che hanno condiviso scelte e impegno vanno la mia gratitudine e la mia riconoscenza. Boldi annuncia anche le dimissioni da confartigianato, da tutte le cariche provinciali, regionali e nazionali e dal ruolo di consigliere della Camera di Commercio. Ho sempre considerato, dice, ogni attività pubblica come servizio agli interessi comuni da non piegare mai a quelli particolari o ancor peggio politici e queste sono le uniche regole in cui mi riconosco, perciò decido oggi di andarmene confidando nel tempo che è sempre il miglior giudice del nostro operato.